Gentili telespettatori, buona giornata. Un'ora di incontro tra Letta e Di Maio. Ma il capo politico non era il Giuseppi? Ecco, perché un incontro tra il segretario del PD e il ministro degli esteri? Che ci azzeccano? O forse continuano a riconoscere in lui il vero capo politico? Ci sono dei timori per le primarie del PD nella capitale e poi per il voto a Roma, perché il Movimento 5 Stelle più il centrosinistra uniti hanno oltre il 50%, mentre separati vince il centrodestra. Vince ma poi bisogna andare alle primarie, perché se Michetti dovesse avere almeno il 10% in più di quello che segue, per esempio arriva primo Michetti con il 45% e secondo Gualtieri con il 33%, sarebbe oltre il 10% di distanza, sarebbe la vittoria di Michetti. Però se la distanza tra Michetti e Gualtieri è dal 45% al 40%, 5% si deve andare a fare il ballottaggio. Intanto faccia a faccia tra il segretario del PD e il ministro degli esteri, su politica internazionale, rapporti tra Europa e Stati Uniti e alleanza tra i due partiti. Letta parla con Di Maio perché si è capito che Conte non è tanto per fare l'alleanza col PD, ha capito che diventare una succursale del PD senza idee, già il PD non ha idee. Il Movimento 5 Stelle cosa diventa? La succursale di un partito che già non ha idee? Ecco, pertanto lui crede che staccarsi dal PD non farebbe che bene al Movimento 5 Stelle, anzi si dice che stia pensando proprio di andare all'opposizione, di uscire dal governo per fare, lui dice come la Meloni, a prendere un po' di voti. In 3.000 si sono già preregistrati online per le primarie del PD, tra gli elettori di centro-sinistra. Dopo il flop di Torino, dove hanno votato in 12.000, anche a Roma si teme una scarsa affluenza, anche perché i candidati sono proprio, come si può dire, poco interessanti. Poi c'è il sole, la gente va in spiaggia. Diciamo che andare a votare per le primarie del centro-sinistra ma neanche fosse l'ultima cosa da fare a Roma. I candidati pensate un po'. Roberto Gualtieri, capolista, grande carisma. Poi abbiamo Tobia Zevi, Giovanni Caudo, Cristina Grancio, Imma Battaglia, Paolo Ciani e l'ultimo Stefano Fassina. Stefano Fassina non era quello che era salito sulla ONG, sul ponte, a vedere se andava tutto bene. Forse mi sbaglio. Domani vedranno impegnati questi nomi mille volontari in oltre 190 gazebo. Potrebbero esserci più volontari che votanti. Sarebbe bello domani avere qualche foto dei gazebo del PD vuoti. Se nelle scorse settimane la previsione era di raggiungere i 50.000 partecipanti, adesso l'obiettivo è non scendere sotto i 43.000 del 2016. I 3.000 preregistrati sulla piattaforma online potrebbero essere un segnale di scarso entusiasmo, per quanto gli elettori tendano a preferire la modalità tradizionale rispetto a quella telematica. Dicono così nel PD, speriamo in un risultato migliore di Torino, per lo meno dignitoso, confida uno del PD. Certo non sono più i tempi di 15 anni fa. Eh no, per fortuna non sono più i tempi di 15 anni fa. Come vi dicevo c'è comunque un nocciolo duro di persone che vota a PD. Vota a PD perché è la loro casa, come dicevo nei video precedenti, ma non gli interessa nulla di questo PD. Non condividono né quello che dice il segretario, né quello che dice il partito, perché il partito in fondo non dice niente. Il partito solo critica quello che fa la centrodestra. Pertanto, che interesse può avere un votante del PD che ormai vota a PD solo perché sa che è la sua casa, ma non condivide nulla di quello che dicono e pensano? Pensate realmente che abbia voglia di uscire di casa per andare? Ah ci sono le primarie del PD, vado a votare per... Certo, qualcuno andrà, però realmente io credo che sarà un flop. Beh, poi magari mi sbaglio, eh. Ieri Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, faceva l'appello a votare, mentre gli esponenti del PD locali hanno un cauto ottimismo. Dice, se dovesse andare come a Torino mi preoccuperei, dice Enzo Foschi, vice segretario regionale. Ma lì non si votava anche per i municipi. A Roma il clima è diverso e ci aspettiamo una bella partecipazione. Vedrai, Foschi, avrai una bella partecipazione. Prima domenica in zona bianca, temperature massime di 32 gradi. Le città si svuotano, vanno tutti al mare. Abbiamo scelto la data non guardando il calendario atmosferico, dicono nel PD, ma l'andamento dei contagi, dice il segretario romano dei DEM, Andrea Casu. È la prima volta che le primarie si svolgono il 20 di giugno e durante una pandemia. Stiamo consigliando la partenza intelligente. Se si viene a votare si evita il traffico. La partenza, se si viene a... Ma pensate un po' a cosa dice il PD. Al posto di partire per le vacanze, fate una partenza intelligente. Partite in orari alternativi, così potete venire a votare alle primarie del PD. Ma va là, va là, la partenza intelligente per andare a votare al gazebo del PD. Un altro elemento concorrenziale, oltre alla ritrovata voglia di libertà, poi ci sono anche le partite europee tra Italia e Galles, che si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico. Tutti i fattori che potrebbero far diventare queste primarie del PD a Roma una sconfitta totale, totale e clamorosa. Però questo fa parte delle cose. Bene, vedremo cosa succederà. Casomai ci facciamo quattro risate con le fotografie dei gazebo assolutamente vuoti. Grazie a tutti quanti per avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. E intanto nella community ci sono tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Poi c'è l'altro canale che si chiama Teleitalia Seconda Rete qui su YouTube, dove vi invito ad iscrivervi anche lì, visto che anche lì ci sono ogni giorno almeno un video di politica. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.